Buona giornata, buona giornata amiche, amici, buon lavoro, buono studio, ci risiamo, ci risiamo. Questa è la scrivania del Ministro dell'Interno, ci sono dossier che arrivano dai sindaci, che arrivano dalle associazioni, che arrivano dagli imprenditori, che riguardano la mafia, la camorra, l'andrangheta, il racket, la droga, l'usura, le estursioni, il cyberbullismo, la violenza contro le donne, e però qualcuno evidentemente vuole impegnare il mio tempo in altro. Mi è arrivata oggi, proprio pochi istanti fa, siete privilegiati, siete i primi a vederlo probabilmente. Eccoli qua. Gli atti del Tribunale di Catania, sezioni reati ministeriali. Già qua avete intuito che c'è qualcosa che ovviamente riguarda la mia persona e riguarda anche voi, Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, torno a essere indagato, adesso vi leggo, torno a essere indagato in base all'articolo 605 del Codice Penale per sequestro aggravato di persone e di minori, pena prevista da 3 a 15 anni. Cioè, pena prevista per il senatore Matteo Salvini, momentaneamente ministro dell'Interno, da 3 a 15 anni di galera. Manco fosse uno spacciatore o uno stupratore. Perché? Perché osai, secondo questi tre giudici del Tribunale di Catania, bloccare lo sbarco, quest'estate, dei 177 immigrati presenti sulla nave Diciotti. Allora, capiamoci, capiamoci. Se uno fa il ministro, applica la legge, di più applica l'articolo 52 della Costituzione italiana che recita, come tanti intellettualoni e professoroni di sinistra giustamente vivono a pane e Costituzione, pienamente giusto, io ho giurato sulla Costituzione, articolo 52 della Costituzione italiana. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, soprattutto se il cittadino è pure ministro. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. La difesa dei confini, la difesa delle regole, la difesa del vivere civile, la difesa della democrazia. Per qualcuno no. Per qualcuno un ministro che blocca gli sbarchi non difende la patria, ma deve finire in galera. Adesso la parola passerà al Senato della Repubblica e quindi ci saranno i senatori che dovranno dire sì o no, colpevole o innocente, libero o a processo. Chiarisco subito, io non cambio di un centimetro la mia posizione. Barche, barchini e barconi, discafisti, trafficanti, mafiosi o amici di tizi o ONG olandesi e tedesche, in Italia non sbarcano nessuno. Quindi se sono stato sequestratore una volta, ritenetemi sequestratore anche per i mesi a venire. Non cambio assolutamente idea perché voglio salvare vite e voglio presidiare i confini e voglio difendere il mio Paese. Leggiamo, non so se vi sia mai arrivato a casa un atto di un tribunale non è mai una buona notizia. Quindi questo qua ve lo leggo per sommi capi e sono tre paginette redatte da questi tre giudici della sezione Reati Ministeriali del Tribunale di Catania. Tre paginette, vi risparmio tutti i preamboli con comunicazione. Peraltro si sono riuniti il 7 dicembre. Oggi cos'è? Il 24 gennaio. Rapidi. Riunione il 7 dicembre e comunicazione il 24 gennaio. In un'azienda privata qualcuno dovrebbe dare delle risposte. Però fa niente. Il Tribunale dei Ministri, visto l'articolo 8,1 legge costituzionale 1,89, dispone la trasmissione degli atti e del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica di Catania affinché ne curi l'immediata rimessione al Presidente del Senato per l'avvio della procedura prevista dall'articolo 9 della legge costituzionale citata. Quindi si invita a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato. Aspetta, eh? È vero, non è uno scherzo. Non siamo su Scherziaparte, non siamo su Lercio.it, siamo in Italia. Sequestro di persona aggravato. Ecco, io. Wanted. Wanted. Sequestro di persona aggravato. Ripeto, da 3 a 15 anni di carcere. Per avere nella sua qualità di ministro dell'interno abusando dei suoi poteri, è questo che abusando dei suoi poteri, ma allora i giudici fanno i giudici e io li rispetto, i ministri fanno i ministri ed esercitano i loro poteri. No, secondo questi tre signori del Tribuna di Catania io avrei abusato dei miei poteri e privato dalla libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso di Ciotti alle ore 23.49 del 20 agosto 2018. In particolare il senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di ministro, violando le convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali, quindi ho violato convenzioni internazionali, norme nazionali, non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le libertà civili di esitare tempestivamente la richiesta di un porto sicuro presentata alle ore 22.30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti. Sì, 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 lo rivendico, lo confesso, lo ammetto, ho bloccato la procedura di sbarco dei migranti. Se questa è una colpa, se questo è un reato, sono colpevole di questo reato e mi dichiaro colpevole di altrettanti reati per i mesi a venire, nel senso che barche, barchini e barconi, in Italia il loro carico di esseri umani, che per gli scafisti diventano soldi con cui comprano armi e droga, in Italia un porto non ce l'hanno. Quindi lo dico, preparatevi, lo dico al dottor Lamantia, alla dottoressa Levanti, al dottor Corda, preparatevi a compilare altri atti, non so, da 15 anni arriverò a 30 anni, a 45 anni, all'ergastolo, sono pronto all'ergastolo perché ho bloccato e riblocherò la procedura di sbarco dei migranti. Così determinando consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche a bordo della nave 18, che era ormeggiata nel porto di Catania. Ma voi ve lo ricordate quest'estate e salivano medici, salivano parlamentari, salivano giornalisti, salivano volontari, di tutto, di tutto. Però io avendoli bloccati li ho costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche a bordo della nave 18 fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco perché avevamo ottenuto che altri paesi europei si facessero carico di questi immigrati. Fatto aggravato, vanno avanti i giudici, dall'essere stato commesso da un pubblico ufficiale, faccio il ministro, se fossi stato un passante evidentemente non avrei bloccato nessuno sbarco, e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minorenni. Quindi solo un sequestratore, vile, vigliacco, infamo, fascista, razzista, ma pure di bambini. Non sequestro solo gli adulti, ma sequestro pure i bambini. Fatto commesso in Catania dal 20 al 25 agosto 2018, così deciso in Catania, sembra qualche trasmissione televisiva, in data 7 dicembre 2018 nella Camera di Consiglio del Tribunale, sezioni reati ministeriali, il Presidente, Dottor Nicola Lamantia, i giudici, Dottoressa Sandra Levanti e Dottor Paolo Corda, a cui vanno i miei pieni rispetti. Un bel bacione, un abbraccio, non entro nel merito del vostro lavoro. Chiedo solo al popolo italiano se riteniate che io debba continuare a fare il Ministro, esercitando i diritti e i doveri del Ministro, fa curui, ripeto, l'applicazione dell'articolo 52 della Costituzione che dice che ogni cittadino è tenuto a difendere la patria come sacro dovere, oppure se dobbiamo demandare a quel Tribunale le politiche sull'immigrazione. Lasciamo che l'immigrazione sia gestita dall'ONU, dalle ONG, pigliate qua uno scafista e gli fate fare il Ministro, così lui non sequestra nessuno, fa i suoi traffici, tu vai, tu vieni, vitto, alloggio, pensione, albergo, no. Se volete continuare ad avere questo Ministro, contate sul fatto che io non cambio di una virgola il mio modo di pensare, di lavorare e di agire. In Italia si arriva, se si ha il permesso di arrivare, questo vale anche per la nave della Sea-Watch che ha fatto a gara con la Guardia Costiera Libica per andare a raccogliere 47 immigrati, ha vagato davanti alla Tunisia senza far nulla, ha vagato davanti a Malta senza far nulla e adesso arriva in Italia. No, nisba, niet, chiuso, chiuso. Le politiche sull'immigrazione, le politiche dell'antiterrorismo, le politiche sulla sicurezza le decide il Governo, non le decidono dei privati olandesi. Andate in Olanda, andate in Germania, andate in Francia, andate a Malta, andate dove volete. In Italia no, se ne facciano una ragione non so se sono collegati online, ripeto, rispetto al loro lavoro di questi tre giudici e il Tribunale di Catania, però veniamo a un chiarimento. Il Senato arriverà a un chiarimento. Sono sicuro del voto dei senatori della Lega perché stiamo semplicemente mantenendo quello che ci eravamo impegnati a fare in campagna elettorale chiedendo il voto agli italiani. E vediamo come voteranno tutti gli altri senatori. Se ci sarà una maggioranza in Senato che dice sì, Salvini è colpevole. Salvini deve essere processato, Salvini deve essere incarcerato perché ha abusato, ha sequestrato, ha trattenuto, è un delinquente. A proposito dei delinquenti, poi i fenomeni di sinistra che ormai da sette mesi, da quando mi sono seduto in questo ufficio, mi insultano, mi attaccano, mi diffamano, assassino, delinquente, terrorista, fascista, nazista, rastrellatore di esseri umani perché semplicemente faccio rispettare le leggi, le regole, il buonsenso, e poi continuano a insultare e poi trovano degli scemi che come oggi a Milano vanno a scrivere sui muri non sparare a salve spara a Salvini con la rossa degli anarchici. Ho smesso di ridere, ho finito di ridere, ho esaurito la pazienza. Adesso conto che le forze dell'ordine vadano a beccare questi deficienti perché un conto è la critica politica, il confronto politico, in democrazia è bello suggerire, criticare, modificare, migliorare, è bello il confronto fra idee diverse. Queste non sono idee. Quando un coglione scrive sparate a Salvini su un muro non è bello e poi sicuramente ci sarà qualche professorone che magari lo giustifica pure. Perché figurati Salvini è brutto, cattivo, egoista, se lo merita. Sono sicuro che a sinistra c'è qualche mente debole che arriva a pensare queste cose. Mi spavento? No. Cambio modo di lavorare? No. Anzi lavoro un giorno in più, lavoro un'ora in più, arresteremo un mafioso in più e uno spacciatore in più. Però per dirvi del clima di odio, di intolleranza, di razzismo, questo sì, questi sono odio, intolleranza e razzismo nei confronti di chi applica la legge. Non volevo rovinarvi il pranzo, non me lo rovino io, adesso mi mangio la mia pizzetta, mi bevo la fanta, mi bevo il caffè, c'è un pomeriggio e una serata di lavoro, domani altrettanto, sarò presto in Piemonte, domenica sera sarò in Abruzzo, sabato pomeriggio se ce la faccio sarò a Milano. E quindi si lavora, si va avanti, con soddisfazione perché peraltro nelle scorse ore abbiamo stanziato per i comuni italiani centinaia di milioni di euro per mantenere e manutenere le scuole, le strade, le case di riposo, le palestre, le biblioteche, soldi veri. 250 milioni di euro all'anno per ogni provincia che erano rimaste l'asciutto per sistemare le strade e le scuole, a Roma non se ne può più. E 400 milioni di euro per i comuni piccoli sotto i 20 mila abitanti, quelli dimenticati da sempre dalla politica, dai ministri, dai governi, che però sono la spina dorsale di questo paese, da nord a sud, in montagna, sulle Alpi, sugli Appennini, al mare, in campagna, ecco i comuni di 2, 3, 4 mila abitanti avranno 400 milioni di euro per sistemare quello che in paese non si sistema da anni. Alcuni di questi sindaci mi hanno già ringraziato perché abbiamo scritto a tutti i 7 mila, non so quanti ministri dell'interno, grazie a uno staff incredibile. Ci tengo a ringraziare la squadra che lavora con me al Ministero dell'Interno perché tutti i successi che stiamo ottenendo, tutti i risultati che stiamo portando a casa per voi non sono grazie a me ma sono grazie alla squadra perché uno da solo non va da nessuna parte, ringrazio i sindaci di Fabrizia, Vibo Valencia, Tuscania, Sovicille, Serravalle Pistoiese, Cugiono, Gualdo Tadino, Cervignano D'Adda, Longare, Bardinito, Pescia, Villa Vernia, Ponso, Mediglia, che dicono grazie, non eravamo abituati ad avere un colloquio diretto con il Ministero dell'Interno, sono fatto così. Se mi lasciano a piede libero, chiudo, cari sindaci, cari italiani, so che siete in tanti davanti al video, conto sul vostro affetto, sulla vostra forza, sulla vostra fiducia, conto su un'informazione libera dei giornalisti che parlino finalmente per una volta sui giornali, sulle radio e in televisioni di quella che è la vita vera, qua non ci sono nazisti, fascisti o deportatori, c'è un Ministro che vuole far rispettare le regole agli italiani, agli immigrati, ai richiedenti asilo, ai bianchi, ai neri, ai rossi, ai verdi, questa è democrazia, questo è buonsenso, questa è civiltà. Se me lo lasciano fare, ripeto, sono curioso, vi aggiornerò, nei prossimi giorni si riunirà il Senato della Repubblica che deciderà se posso continuare a fare il Ministro o se smetto di fare il Ministro perché sono un sequestratore che merita dai 3 ai 15 anni di carcere. Ve lo rileggo, sono le 13.21, mio figlio è ancora a scuola, poi lo chiamo prima che esca da scuola, se no si spaventa perché pensa di avere un papà delinquente, papà si ritiene assolutamente innocente. Il Senatore Matteo Salvini è inquisito per il reato di sequestro di persona aggravato come previsto dall'articolo 605 del Codice Penale per avere nella sua qualità di Ministro dell'Interno abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale, 177 migranti a bordo della nave 18. Lo confesso, non c'è neanche il risolio del processo, l'ho fatto e lo rifarò perché questo non è un mio diritto ma ritengo sia un mio dovere. La difesa dei confini e la difesa della sicurezza dei cittadini italiani per me vengono prima di tutto e di tutti. Bacioni.